Se la crisi morde sull'occupazione marchigiana lo fa soprattutto nei settori a più alto impiego di donne, manufatturiero e tessile in primis, ma è su tutte le problematiche al femminile che il sindacato pone l'attenzione e indica le necessità. I dati che abbiamo ci dicono che mentre in Italia noi abbiamo un 47% di occupazione femminile, nelle marche il dato si attesta sul 55,9%. Questo dato comunque positivo rispetto al dato nazionale va comparato con il tasso di occupazione maschile che è a un circa 72%, quindi c'è un gap ancora abbastanza rilevante. Innanzitutto per noi fondamentale è il tema dei servizi. Potenziare i servizi, renderli più efficaci sicuramente favorisce l'entrata e la permanenza della donna nel mercato del lavoro. Un altro elemento è la richiesta da parte della CISL di un tavolo di monitoraggio continuo, permanente, anche proprio sulla differenza di genere e anche per quanto riguarda proprio l'elemento della crisi. Un impegno sul fronte donna che passa anche attraverso eventi, seminari e formazione giuridica proposti dal coordinamento donne. Oltre all'attività culturale il coordinamento si occupa anche di sensibilizzare su attività sociali e attività strettamente sindacali. Per esempio ci stiamo occupando già dallo scorso anno, già dal 2009, della problematica della violenza sulle donne. Ci occupiamo di studiare la legislazione sulla conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, che è rappresentata dalla legge 53 del 2000, e dei congedi parentali. Grazie a tutti.